Live Social Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori siamo sempre qui, live social, programma in onda sulle frequenze di Radio Dolomiti vi ricordo, mi raccomando, il nostro appuntamento fisso tutti i sabati, le domeniche ovviamente sulle nostre frequenze diamo subito il benvenuto, anzi il ribervenuto a Michele, buonasera, benvenuto Michele buonasera, buonasera allora Michele è ritornato a trovarci ricordaci un po' perché è rivenuto la prima volta è venuto per il bar della stazione di Cless che l'ho aperto a marzo che da marzo ha preso il Viesta e animando un po' tutta la piana e la Val di Nonno oggi è venuto qui per presentarci un altro suo amore quindi una seconda passione, una seconda attività stiamo parlando di MB Drone esatto ecco, come è iniziato, come ti sei appassionato al mondo dei droni? allora, all'inizio ho acquistato un drone così per hobby e poi informandomi sulle varie legislazioni che ci sono in Italia bisogna fare dei patentini allora mi sono messo a studiare e ho fatto degli esami come quasi quelli della patente della macchina mamma mia addirittura quindi sono severi e rigidi e quindi esame teorico, esame pratico e poi sono riuscito ad avere il patentino e quindi aprire la mia attività mamma mia, fantastico ecco, ricordaci un po' quali servizi fai? perché so che si possono fare sia foto ma anche video sia foto video aerei che può essere per promozione per delle manifestazioni per dei video da mettere su dei siti sia foto che video ecco, la cosa particolare è che proprio sia una visione come un terzo occhio di George Orwell dall'alto una visione che gli ospiti, gli invitati oppure le semplici persone non vedono perché essendo all'altezza a terra non riescono a vedersi giustamente dall'alto quindi sembrano proprio delle immagini nuove rimangono stupite le persone sì, perché magari anche la gente che conosce quel posto molto bene però è abituata sempre a vederla dall'altezza normale diciamo anche solo andare salire di 50 metri 60 metri sembra proprio un altro posto irriconoscibile mamma mia, fantastico ecco, ti è mai capitato che le persone rimangano proprio stupite alla consiglia dei tuoi lavori del materiale bellissimo una cosa che sta andando molto in voga che ho visto funziona perché poi proprio le persone rimangono estasiate sono i matrimoni con le riprese dall'alto con il drone perché si possono fare tantissime cose parlo dall'arrivo degli sposi magari in chiesa riprese dall'alto certo piuttosto che la sposa che arriva sul lago in barca e la si riprende dall'alto si può spaziare? sì, sì, sì si può fare di tutto ovviamente ci sono delle leggi che vanno cavolo queste leggi che vanno rispettate e sono molto rigide ecco, ci dice alcune di queste leggi senza fare i numeri però giustamente per capire un po' quelle un po' più importanti non si possono non si può volare sopra le persone ah, ok assolutamente quindi quando gli eventi mi hanno ci riprendono sopra il bar non si può fare? 50 metri di distanza dalle persone ok e 150 metri dai centri abitati non si può sopra i centri abitati ah mamma mia quindi proprio delle regole rigidissime eh sì beh effettivamente perché poi diventerebbe anche un po' spionaggio uno va a vedere dalla finestra se c'ha l'amante e il marito quello certo per la privacy anche per il pericolo che può sempre capitare che per qualsiasi cosa può cadere anche quello più piccolo da 300-400 grammi a un'altezza di 150 metri fa un po' di male certo sicuramente fa male speriamo che non succeda mai l'autonomia delle batterie di un drone quanto dura? ogni quanto bisogna cambiarla? allora adesso siamo arrivati circa sui 27 minuti 29 minuti di batteria di autonomia ok perché sempre più si va avanti ti passano un po' i tempi diventa tutto molto più serio molto più elettronico e molto più sicuro mamma mia fantastico ecco ti chiedo come si organizza come ti organizzi tu Michele per le riprese con il drone? allora innanzitutto vado a fare un sopralluogo sì sul posto e poi mi affido a un sito dove è tutto mappato si chiama D-Flight questo sito ok dove io da lì capisco se posso volare o meno ah c'è proprio una mappa del apposita dei piloti di drone per i lavori esatto se si può comincio a prepararmi degli design batterie telecomando tablet un sacco di cose da caricare e dopo si parte mamma mia fantastico c'è un nome per il pilota di droni? pilota di SAPR ok S-A-P-R ah ok sistema pilotaggio remoto ah ecco vedi questa è la la nominatura corretta e ci racconti un aneddoto particolare che ti è capitato perché so che sei riuscito a riprendere l'orso si nel 2017 è stato 2017 molto a caso siamo andati nel bosco avevo il drone con me e abbiamo avuto la grande fortuna di riuscire a vedere l'orso prima col binocolo in un prato e poi ho detto questa è un'occasione da romperdere allora ho fatto partire subito il drone ho fatto due minuti di video diciamo che sono andati ho messo su youtube si può trovare su youtube abbiamo superato i 50.000 visualizzazioni ma forse allora l'ho visto stava mangiando stavo cercando del cibo allora sappiamo che quel video lì è tuo vabbè complimenti grazie e l'orso non si è accorto assolutamente l'immagine sono stato abbastanza lontano quindi no che meraviglia si possono fare degli zoom potenti con il drone no il drone che ho io ha una telecamera molto piccola e non è dotata di zoom quindi nel caso bisogna avvicinarsi proprio meccanicamente perché non possiede lo zoom certo tu ti muovi sempre da solo o a volte ti fai anche accompagnare da qualcuno nel tuo lavoro qualche amico ogni tanto ogni tanto da solo e ogni tanto lavoro insieme a un altro operatore che fa riprese a terra e io invece mi occupo di riprese aeree mamma mia hai fatto anche delle riprese per qualche pubblicità senza far nome si possono fare comunque riprese di marketing sì 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 quello sì si può fare di tutto che sia dalla pubblicità di una macchina alla pubblicità di un hotel di un rifugio di una maga si può fare tutto stando sempre a leggi ma si può fare tutto ecco io mi sto immaginando tu che piloti questo drone e quindi hai un telecomandino con quanti pulsanti ci sono quanti è molto semplice è molto semplice in realtà è simile al joystick della playstation ok con attaccato un tablet sì dove si hanno tutti i dati di altezza la velocità la velocità del vento perché c'è anche dei sensori sensori degli ostacoli e dove si vede quello che si riprende ah ok quindi tu proprio da questo joystick diciamo chiamiamolo hai anche la visione di insieme di quello che stai vedendo di dove stai andando poi il drone deve essere sempre a vista io devo sempre vederlo in ogni caso mamma mia vedi quante normative che sono state fatte ma giustamente anche perché sennò diventa pericoloso come ti vedi fra 5 anni come vedi un po' l'avanzamento dei droni le nuove tecnologie allora in questi ultimi 3 anni sono andati avanti molto sono andati a fare dei droni piccolissimi che hanno una qualità incredibile una stabilità incredibile fra 5 anni adesso tra poco uscirà un regolamento europeo quindi ci sarà una regola per tutta l'Europa e non in base allo Stato quindi intanto adesso aspettiamo quello vediamo cosa dicono e vediamo se ci chiudono le porte dal tutto ma no speriamo di no o ci lasciano un po' lavorare mamma mia ok se parliamo di prezzi di droni da che prezzo si parte fino ad arrivare al top del top del drone allora se partiamo da una base di un drone comunque serio un po' serio comunque si parte dai 700-800 euro mamma mia sì fino ad arrivare a più di 10.000 euro ti è mai successo di rompere un drone? no mamma mia allora sei bravissimo una volta mi hanno dato quello di mio cuginetto che gli aveva regalato tipo a Natale ho provato è finito sull'albero immediatamente ma all'inizio a volanza non costava 700 euro all'inizio a volanza sì beh certo si ha tra le mani uno strumento un gioiellino che vuola e di incontrare qualche volatile sì disturbano molto ah ecco vedi si avvicinano anche girano attorno continuano a girare attorno sì devi trovare degli sparacqua dal drone c'è qualche altra curiosità che puoi dirci Michele sul tuo lavoro seguitemi su facebook c'ho la pagina facebook ho una pagina instagram dove pubblico periodicamente delle foto c'ho il canale youtube pubblico dei video ovviamente i video creativi non video di lavoro dove potete trovare appunto anche il video dell'orso per contattarti anche per per un matrimonio per qualche pubblicità per qualsiasi evento ripreso dall'alto da un diverso punto di vista allora vi ricordo che Michele lo trovate su facebook come mb drone instagram mb underscore drone potete anche mandare una mail a mb drone italia chiocciola gmail punto com Michele io ti ringrazio è stato davvero un piacere parlarti e entrare un po' nel mondo dei droni adesso ne sappiamo di sicuro tutti un po' di più esatto ci vediamo magari alla prossima quando ci racconterai qualcosa sul bar a cli se intanto passiamoli a trovarti o qualche novità sui droni va bene grazie mille noi torniamo tra poco a Ciao